Le aveva annunciate domenica sulla sua pagina Facebook e qualche giorno prima, con una lunga ed amara lettera rivolta ai suoi cittadini, ne aveva già suggerito in parte i motivi. Le dimissioni protocollate dal sindaco di Ruvo di Puglia Vito Ottombrini ieri pomeriggio non sono quindi un fulmine a ciel sereno. La sua decisione segue di 24 ore quella analoga ufficializzata da quattro consiglieri della sua maggioranza, che dopo aver approvato un difficile bilancio di previsione hanno preferito non proseguire la consigliatura in aperta polemica con il modus operandi del sindaco Ottombrini. Il quale avrà ora 20 giorni di tempo per trovare una nuova quadra attorno alla sua maggioranza, pena la fine anticipata di una consigliatura che sarebbe volta naturalmente al termine la prossima primavera. Il centrosinistra, che governa la città dal 2011, viene travolto da una crisi che era nell'aria da tempo, da quando cioè la difficile situazione finanziaria del comune di Ruvo di Puglia era diventata a tal punto grave da compromettere il raggiungimento dei principali obiettivi di fine mandato. Prima le deleghe assessorili consegnate dall'intera giunta nelle mani del sindaco, poi le dimissioni di quattro consiglieri del Partito Democratico hanno certificato una scollatura che ora sarà difficile sanare tra il primo cittadino e la sua coalizione. Tra le richieste dei dissidenti c'è quella di una rivisitazione della giunta, a cui andrebbe accompagnato un rilancio dell'azione amministrativa che tenga conto delle indicazioni del Partito Democratico, espressione di ben otto rappresentanti in consiglio dei nove che compongono la maggioranza. Da rivedere, dicono i consiglieri dimissionari, la gestione del personale, i tagli alle spese improduttive, ma soprattutto da affrontare le delicate questioni riguardanti la Ruvo Servizi e la pubblica illuminazione. Il bilancio lacrime e sangue, approvato due settimane fa, è stato quindi solo lo scoglio superato il quale iniziare una risa dei conti nella quale rientreranno certamente le prospettive future del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni comunali di primavera. Già dalle prossime ore sarà chiaro se esistono i margini per una ricomposizione della maggioranza o se per i prossimi mesi il comune di Ruvo di Puglia sarà governato da una gestione commissariale. Intanto, per giovedì 1 ottobre è stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la surroga dei quattro consiglieri dimissionari e la situazione politico-amministrativa dopo l'abbandono del sindaco Tombrini.